Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Da poche ore è uscito Super Mario Run e quindi direi di fare un video nel quale vi faccio vedere com'è questo gioco, le modalità di gioco, come proprio è, se è bello, se è brutto, perché ha avuto veramente un effetto hype, veramente molto molto alto, si è fatto attendere da tantissimo tempo, sin da quando hanno annunciato durante l'evento nel quale hanno presentato l'iPhone 7 e oggi, 15 dicembre 2016, è stato presentato. Quindi direi di iniziare a giocare, quindi tocchiamo per iniziare, ci appare questa finestra di Peach con scritto Mio caro Mario che ne direi di unirti a noi per una festa al castello, preparerò una torta, va bene, ok. Classica schermata iniziale di tutti i giochi di Super Mario, con Peach che probabilmente verrà rapita da Bowser e in effetti, quella torta sarà mia e anche Peach, avanti. Ti do il benvenuto a Super Mario Run, in questo gioco Mario corre continuamente e ovviamente il bel raccogliere monete immagino, e supera automaticamente piccoli ostacoli. Ah bene. Beh, il tubo non mi sembrava tanto piccolo, però... Sì, vabbè, però cade giù. Se commetti un errore apparirà all'interno di una bolla e potrai riprovare. Quando smetti di roteare, tocca lo schermo per far scoppiare la bolla, benissimo, ok. Tocca lo schermo. Ok, e saliamo dove è disposta la bolla, quindi esplode. Mario supera automaticamente anche i nemici, i Goomba di piccole dimensioni in questo caso. Per far saltare Mario, tocca lo schermo, più tiene premuto il dito, più in alto salterà. Benissimo, vediamo. Tocca lo schermo mentre stai scavalcando un nemico per eseguire delle acrobazie. Benissimo, fa dei salti in volo. E questo qua invece col guscio di tartaruga li butta tutti giù. Adesso salto. Il tol che mi fa diventare alto. La cazzarola. No. C'era un gettone stella che magari non so cosa mi faceva fare, però non l'ho preso. Comunque nel frattempo si è chiusa questa schermata. Adesso sta scaricando i dati perché in effetti Super Mario Run funziona soltanto quando è connesso a internet. Cioè questo, i creatori del gioco credono che sia, anzi dicono che sia uno strumento di sicurezza per evitare ad esempio persone che modificano il gioco. Ma ufficialmente il perché abbiano fatto questo non è che sappia tanto. Ok, finito di scaricare i dati. Notifiche push, abilita la funzione, probabilmente ci ricorderà di giocare ogni tanto. Quindi va bene. Acconsettiamo le notifiche push. E questo qua è il mondo nel quale giocheremo. Mi ricorda molto Mario Bros. Mario Bros 2, quello al quale giocavo sul DS quando andavo all'elementari. Ma adesso vediamo che cosa ci riserva al gioco. Ma vediamo qua Todd, che probabilmente ci deve dire qualcosa. Oh no, Bowser ha rapito la principessa Peach. E te pareva. Ha pure distrutto il castello e ha fatto fuggire i Todd. Cosa possiamo fare? Allora, mi dice di cliccare sul mondo e noi ci clicchiamo sopra. E questo qua sono tutti i mondi disponibili. Peach è prigioniera nel castello di Bowser, deve andarla a salvarla per forza. Ma dai, cioè, che finale inaspettato. Anzi, che scopola il gioco inaspettato. Quindi iniziamo col primo mondo. Inizia. Primi passi. No, cazzo, ho perso il Todd. Giù, track. Cosa fa sta roba? Ah, che figo, mette in pausa il gioco. Dovrò ora mettere in pausa con quel bottone lì rosso, ma mi son dimenticato. Ecco qua. Tac, tac, tac. E non l'ho ancora preso con la stella. Dove veramente vedere che cosa ci riserva. Nah, troppo basso, dovevo arrivare lì in alto. Vabbè, però, siamo arrivati alla fine. Livello superato, dai, era abbastanza facile. Ho guadagnato 57 monete. E adesso andiamo col mondo 2. Comunque, questo era il video nel quale vi faccio vedere la configurazione iniziale di Super Mario Run. Se vi è piaciuto questo video, questo video magari un po' diverso dal mio solito, fatemelo sapere con un mi piace. Ma soprattutto condividete e iscrivetevi al canale per permettermi di crescere. Io sono Alberto e vi ringrazio per la visione e vi aspetto sempre qui su iTechPro con un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!